Il nostro concerto in amicizia con il brano Alleluia, Laudate Dominus, Ornus Gentis, di Ambrot Scopi. Ambrot Scopi è un compositore direttore di coro spodeno, classe 1973. Ha diretto cori e orchestra partecipando a concorsi in tutto il mondo e ottenendo un gran numero di successi in patria e all'estero. I Ambrot Scopi è un'ascoltare. Alleluia, Laudate Dominus. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Grazie a tutti. 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 Alleluia, alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.